Buongiorno e bentrovati con Mattino 6, la rassegna stampa di TV6 in questa giornata del 7 di gennaio 2020 siamo nel dopo epifania che ha come sempre portato via tutte le feste, quelle appunto di fine anno, quelle che caratterizzano il Natale e ripartiamo con la rassegna stampa andando subito sulle prime pagine dei quotidiani locali, siamo sull'edizione pescarese del centro ma il titolo d'apertura è univoco per le quattro edizioni, Lotteria Italia ha premiato l'Abruzzo, venduto a Torino di Sangro il biglietto da 100 mila 5 milioni in Piemonte, sotto la testata invece la vendetta contro gli Stati Uniti, l'Iran minaccia Trump, sarà un nuovo Vietnam e poi ancora scendiamo a centro pagina con la foto notizia fiaccolata a Rancitelli Pescaresi, non lasciateci soli dopo l'omicidio in via Tavo Nello Sport, in questo caso un richiamo nazionale, Serie A, Juve Inter restano in testa, Ibra esordio senza gol Andiamo sui richiami per quanto riguarda la cronaca locale, la società del comune Pescara Parcheggi assume posti da 1800 euro Pescara Multiservice, la società del comune che gestisce la sosta in città farà due concorsi per l'assunzione di nuovo personale Si cercano impiegati amministrativi e un coordinatore per le attività dei parcheggi, gli stipendi mensili vanno da 1800 a 2200 euro Le domande devono arrivare entro il 12 di gennaio E poi a Cepagatti, azienda a fuoco, aiuti in arrivo per le famiglie Il sindaco Gino Cantò promette un contributo alle famiglie dei 15 dipendenti che hanno perso il lavoro dopo il rogo Domenica scorsa alla fabbrica Isolbit di Villanova E poi la crisi del commercio a Montesilvano, Moria di negozi in pieno centro Torniamo alla cronaca, trovato un cadavere nel fiume Fino, Colle Corvino, è di un anziano La prima ipotesi è l'uomo scomparso tre mesi fa a Bisenti Dunque l'ipotesi che potrebbe essere il cadavere dell'83enne Palmerino Piccirilli di Bisenti Di cui si sono perse le tracce il 21 ottobre scorso Il dossier mafia, Abruzzo, ville, hotel e terreni tolti alla criminalità organizzata Il libro Abruzzesi per sempre, 21 autori raccontano la regione Poi il buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna De Rossi, eroe di quelli che non mollano De Rossi che ha annunciato il suo addio al calcio Andiamo ora sull'edizione di Chieti Lanciano Vasto del centro Andiamo subito con la foto notizia dedicata al calcio Ieri si è giocato il derby dell'Epifania a Ortona tra Chieti e Vastese Chieti due errori fatali La Vastese fa festa nel derby I biancorossi battono i neroverdi 2 a 0 il finale Poi vedremo anche il servizio E poi i richiami di cronaca Sempre a Vasto Poca acqua nel Vastese Il caso finisce a Roma Il disagio subito dai Vastesi In compenso è all'attenzione del senatore Gianluca Castaldi Del Movimento 5 Stelle Premesso, dice il parlamentare Che la questione è di competenza regionale Sarebbe importante un intervento della regione Mi occuperò del problema Cercando nuovi finanziamenti E poi ancora Ad Atessa Morto alla Sevel Primo turno Oggi non lavora Sevel ferma Appunto nel primo turno di oggi Dopo il tragico incidente sul lavoro Ha costato la vita a Cristian Terilli Di 28 anni Operaio esterno La direzione aziendale ha bloccato il primo turno Dalle 6 alle 14 E poi ancora A Ortona Castello a Pezzi Mura con crepe E abbandono E poi ancora Chieti e Lanciano Nuovi terminal bus Nel capoluogo Parte la gara da 4 milioni Nella città frentana Sì Della giunta Al progetto tua Andiamo sull'edizione Terramana del centro Subito con la foto Notizia Che andiamo a vedere Relativa chiaramente All'epifania Befane Nelle piazze Tante feste Nel Terramano La ricorrenza appunto Dell'epifania E poi i richiami Di cronaca A Teramo In crescita La facoltà Di veterinaria Fare un bilancio A quasi trent'anni Dalla sua istituzione Avvenuta Il 31 ottobre del 90 È difficile Sono tanti gli obiettivi raggiunti I riconoscimenti ottenuti Fra tutti L'ultimo La certificazione Relativa Alla progettazione Ed erogazione Di servizi Di alta formazione E poi ancora La cronaca Martinsicuro In Val Vibrata Perseguita Madre e fratello Scatta L'arresto Un 54 anni Di Martinsicuro Finisce in manette Per estorsione Continuata E atti persecutori Nei confronti Della madre E del fratello Eseguita All'ordinanza Del GIP Di Teramo E poi ancora A Roseto Botte al padre Carabiniere Figlio Allontanato Andiamo sotto La fotonotizia Eventi natalizi Oltre 100.000 Presenze A Teramo Bilancio positivo Ma il sindaco Dice Serve anche altro Per rilanciare La città E andiamo ora Sull'edizione aquilana Del centro Anche in questo caso La fotonotizia Con il tema Dell'epifania Piazza Duomo Che è risultata Affollata Bambini entusiasti Per la befana Dei vigili Del fuoco I richiami Poi di cronaca Sempre restando Nel capoluogo Biondin 15.000 Alle bancarelle Dell'epifania Bilancio positivo Seppur non esente Da critiche Per la 72esima Edizione della fiera Dell'epifania Con 15.000 persone Circa Da affollare I 326 stand A fronte Di 458 domande Che si sono snodati Dalla rotatoria Dallo stadio Fattori All'incrocio Del Torrione All'inizio di corso Federico II Molte le persone Provenienti Da altre città Sempre a L'Aquila Macerie Altra stangata Per il comune Dopo un ricorso In appello L'ente deve sborsare Alla TMP 320.000 euro Più 13.000 euro Di interessi legali E poi a Sulmona Dimasci Pronto a sfiduciare Il sindaco Casini E torniamo alla cronaca Morte di Sara Spunta un testimone Tragedia di Aielli Avrebbe visto Strani movimenti Vicino alle automobili Incidentate Andiamo ora sulla prima pagina Del messaggero L'apertura Autostrade Bisogna fare di più Caos Code in A14 Il governatore Marsilio dice I pedaggi Vanno abbassati Direttamente Modalità di rimborso Farraginose Incomplete Protestano Anche gli autotrasportatori E poi a Pescara La città fuori uso Ferro di cavallo Rebus Demolizione Andiamo sui tre richiami Sotto la testata Dove troviamo appunto L'Aquila Progetto Case Arrivano bollette Arretrate Esplode La rabbia E poi ancora A Campotosto Torna il terremoto Scossa Magnitudo 3 Tanta paura Ma nessun danno Per il calcio di Serie B Pescara L'affondo di Sebastiani Tre colpi Per il salto di qualità Il patrone del Delfino Annuncia I rinforzi Ciofani Ceravolo E Trotta Ci stiamo provando Difficile Poter acquistare Vido e Palombi Ora Peraltro Vido sembra Vicinissimo Al Pisa Di Spalla Leggiamo Poi La situazione Riguardante Le multe Con Teramo Che surclassa Pescara E Chieti Nelle riscossioni E l'unica Città Abruzzese Che supera Il 50% Degli incassi Andiamo ora In taglio medio Dove vediamo Anche la Fotonotizia Con la Vicenda Della Isolbit Di Bilanova Di Cepagatti Isolbit Incendio Doloso Caccia Ai Piromani Analisi Dopo la nube Tossica Non c'è Inquinamento Sempre la cronaca Studentessa Abusata Dopo sette mesi Arrestato Pakistano La giovane Violentata Nell'androne di casa Il sospettato Individuato Catturato Catturato A Firenze Poi a Colle Corvino Il giallo Del corpo Trovato Nel fiume Andiamo sulla Prima pagina Della città Il quotidiano Della provincia Di Teramo Arrestato Il complice Del violentatore Dopo la Peristretti In due Aggredirono Una studentessa 22enne Pakistano Rintracciato A Firenze Invece A Isola Del Gran Sasso Il trasloco Della scuola Rianima I saldi Dopo anni di flop Confermato Il trend positivo In centro Una serie di Richiami Poi Intorno alla Fotonotizia Cadavere Lungo il Fino Potrebbe essere L'83enne Di Bisenti Ricostruzione 2020 Odissea Nello strazio Per gli sfollati Ater E poi ancora Con Di Giacinto Si attende Un nuovo CdA Con tre Avvocati Il CdA E quello Ecco qui Dell'Istituto Zoprofilattico Dell'Abruzzo E del Molise Sicurezza Alimentari Controlli Del Nassa I mercatini Di Natale E Befana E poi andiamo In taglio Basso Ad Alba Adriatica Scontro tra Pepe e D'Annuntis Sui fondi Per ripascere Le spiagge A Giulianova Ottimi numeri Per il Natale Giuliese Gran finale Con l'arrivo Di Sgarbi E poi a Silvi Vicenda Viabilità Silvi propone Un bypass Sulla Terramomare Per i tir In transito Sulla A14 Lasciamo Le prime pagine Locali Andiamo ora A vedere Le prime pagine Delle principali testate Nazionali Siamo sul Corriere Della Sera Che apre Così L'avanzata Di Aftar Su Sirte Libia Blitz Delle forze Anti Sarrai Contrasti Roma Parigi Di Maio Dialogo Trump L'Iraq Paghi Se vuole cacciarci L'Iran Non avrà mai L'atomica Mercati tesi Volano Petroglio E oro Sotto Sotto la testata Milan Ibra Non basta L'Inter Batte il Napoli E risponde Alla Juve Poi Di spalla Sale l'incertezza Una gelata Sull'economia I riferimenti Appunto Sono Ai venti Di guerra Una gelata Sull'economia Ma la politica Sa solo Rinviare Andiamo poi In taglio Medio Con la fotonotizia Tra la folla Che urla Per soleimani Ma non vogliamo La guerra Il reportage Milioni Alla processione A Teheran Poi a Napoli Assalti Alle ambulanze Telecamere E pene Severe Interviene Il governo Pronto Un Decreto Andiamo ora Sulla Prima pagina Di Repubblica Europa Svegliati C'è L'intervista A Gentiloni Il commissario All'economia Prosegue La crisi Trump-Iran Dimostra Che l'Unione Europea Deve fare passi in avanti O continuerà a trovarsi Di fronte A fatti compiuti La Libia È nel baratro Colpa anche Di Salvini Teheran Agli Stati Uniti Preparatevi A un nuovo Vietnam E poi Di Di spalla Storia di una coppia Ilaria Cucchi Fabio L'amore Il regalo Di Stefano E poi ancora A centro pagina Le parole Dell'ex Ministro Fioramonti Fioramonti Nei 5 Stelle O stai zitto O esci Il movimento Non ammette Il dissenso Io non sono Una figurina Da esibire E poi ancora In taglio Basso Inter Juve Appaiate Lukaku Ronaldo Una corona Per due re E poi Feb Waller Bridge La guerriera Felice Delle serie tv E poi la storia di un abbandono A Charlie Hebdo 5 anni Da soli Dopo L'attentato Andiamo ora Avanti Sulla prima pagina Del messaggero Ecco L'apertura Libia Italia più sola Vertice subito Pressing Pressing Sulla Unione Europea Per creare un gruppo Di contatto Aftar conquista Sirte Allarme Foreign Fighter In milioni Ai funerali Di Soleimani Sarà un Vietnam La Nato Impediremo L'atomica Iranana E poi ancora Sotto la testata I biglietti Estratti I biglietti della lotteria Italia A Torino I 5 milioni Roma festeggia Con 1,5 E seconda categoria Ecco qui Le serie vincenti Con i primi 5 premi Il primo estratto Appunto A Torino E poi la corsa Scudetto Juventus Inter Vincono ancora Ma la Lazio Sogna E record Di gol E poi ancora Scendiamo Andiamo a centro pagina Giallo sul ritiro Delle truppe USA Trump minaccia Sanzioni Anche all'Iraq Attacchia I siti culturali Londra Dice no La foto Notizia De Rossi Smetto Per la famiglia Niente posto Alla Roma Per ora Addio al bocca E al calcio Farò il corso Allenatori E poi ancora Sempre in taglio medio Il governo Chiama le banche Per avviare il salvataggio Di Stato Oggi la sentenza Del tribunale Del riesame Sull'alto forno 2 Proseguiamo Siamo sulla prima pagina Del tempo Come salvare i risparmi Fatti leggere la mano Nella famosa scena Di alcuni giorni fa Con la fedele che trattiene Il papa Prima che il papa stesso Si divincoli Andiamo avanti Sulla prima pagina Della stampa I soldati italiani Via da Baghdad Libia Sfuma la missione europea Roma Cerca il dialogo Con Mosca e Ancara Basi turchia In Algeria Il trasferimento Dei carabinieri Dall'Ira Che è avvenuto Nella notte Giallo sul ritiro Delle truppe americane Poi L'intervista All'ex ministro Degli esteri Frattini Di Maio Vuole da Bruxelles La fine Delle sanzioni A Putin E poi La Fotonotizia A centropagina Golden Globe Trionfa 1917 La guerra Vista da Sam Mendes Andiamo Ora Sulla prima pagina Del manifesto Che apre Così Con Reazione A catena Con milioni Di persone In strada Per i funerali Del generale Soleimani L'Iran Torna ad arricchire L'uranio Senza limiti L'Europa Vuole mediare Ma si spacca Il Parlamento Iracheno Caccia I Marine Che accettano Di riposizionarsi In vista del ritiro Intanto il congresso USA Prova a frenare Nella guerra Di Trump Poi ancora In taglio medio Libia Haftar Si prende Sirte Le milizie Di misurata Si ritirano Di maio Vola Al Cairo Andiamo Ora Sulla Prima pagina Di Libero Che apre Così Salvini Minacciato Di morte C'è una Magnum 757 Pronta Per te Un oditatore Di Matteo Spero che un terrorista Ti faccia fuori Così impari A non dare aria Ai denti Per la sinistra E tutto normale Anzi le sardine Boicottano Perfino Chi offre Un caffè Al capitano E poi Centro pagina Guerra USA Iran Conte incapace Di scegliere Da quale parte Schierarsi E poi ancora Andiamo Vedere la prima pagina Della verità Che apre Così Giuseppi Schiera Le truppe L'Europa Lo lascia Solo La crisi In Medio Oriente E quella Del governo Il premier Si fa intervistare E si mostra determinato E al centro Della scena Peccato Che la missione In Libia Sia nel caos Intanto USA Germania Gran Bretagna E Francia Ci tagliano fuori Da tutto In taglio Medio Rula Ha già vinto Il festival Del pienisteo Nessuna censura È stato L'amministratore Delegato Rai A creare il caso Ora la sinistra Si batterà Per averla A Sanremo Prima pagina Del sole 24 ore Crisi Iran USA L'oro Vola ai massimi Tensione Sul petrolio Tutte le borse In forte calo Poi in chiusura Riducono le perdite Milano Moda uomo Al record Di ricavi Chiudiamo Con la prima pagina Di avvenire Che apre Con proclami Di guerra L'Iran Va in piazza Per Soleimani E minaccia L'America Sarà un altro Vietnam Trump Trump ribatte Pronti 52 obiettivi Anche Culturali Ma il congresso Vuole decidere Prima mossa USA in Iraq Dopo la richiesta Di ritiro In Libia Haftar Avanza Mentre arrivano I turchi In taglio Medio Il reportage A Rosarno Dieci anni dopo La ferita Non è rimarginata Oltre la rivolta Sono rimasti Sfruttamento E degrado E poi Incidenti Leggiamo sempre In taglio Medio Contro Le stragi Dell'alcol Le sanzioni Non bastano Due vittime A Senigallia Salgono a sette I giovani Morti In Valle Aurina Lasciamo I quotidiani Locali Possiamo Pardon Lasciamo i quotidiani Nazionali E torniamo Su quelli Locali Andiamo Su pagina 2 Del centro Ecco qui Si torna A parlare Appunto Di Lotteria Italia Dell'estrazione Dei biglietti Vincenti Biglietti Fortunati Abruzzo Premiato Con 100 mila euro A Torino Di Sangro Venduto Il tagliando Fortunato Di seconda fascia Le super vincite In Piemonte 5 milioni E Friuli 2 5 milioni Ecco qui I biglietti Fortunati Il primo premio Come detto Da 5 milioni È stato Estratto Praticamente A Torino Serie O 0055 38 Poi via via Gli altri Premi E Tra i 20 premi Da 100 mila euro C'è appunto Anche il biglietto Venduto A Torino Di Sangro In provincia Di Chieti Serie E 34 66 97 E poi ancora In basso Amadeus Svela Le canzoni Di Sanremo Tra i 24 cantanti In gara C'è anche Rita Pavone Salini Rinvia a oggi La decisione Sugli ospiti Proseguiamo Sempre in tema Di lotteria Italia L'Aquila Batte tutti Con oltre 53 mila Tagliandi Al secondo posto Nella classifica regionale Si piazza Chieti Poi Teramo E Pescara Cresce il record Dei giocatori distratti In Italia Non riscossi Premi Per 29 milioni Sono entrati Nella storia I casi Della maestra Pescarese Che gettò Nella spazzatura Una super vincita Da un miliardo di lire E un aquilano Che non ha mai riscosso Un milione di euro In Abruzzo Quest'anno Si registra un calo Meno 4,7% Delle vendite Con Teramo E la provincia Pescarese Che però Vanno in controtendenza In Italia Domina Il Lazio Poi ancora Tutte le regole Per ritirare I premi Conservare Integro Il biglietto Prima di presentarlo Al monopolio O in banca Proseguiamo Pagina Abruzzo Con il dossier Criminalità organizzata Mafia Ville e hotel Tra i beni Confiscati In regione Sequestrati 196 immobili E 30 aziende Nell'elenco Anche appartamenti Terreni E una Stalla Con scuderia Nell'elenco Ci sono anche 50 appartamenti 9 aziende agricole 4 società finanziarie In taglio basso Bimba di 7 anni Dona i suoi risparmi All'Ail La piccola pescarese Scrive una lettera Commovente Io ho tutto Potrete usarli Per guarire Le persone Proseguiamo E siamo sulle pagine Di Pescara Con il ritrovamento Ieri appunto A Colle Corvino Trovato cadavere Di un anziano Nel fiume Irriconoscibile È stato scoperto Sulle sponde Del fino Potrebbe essere L'83enne Di Bisenti Scomparso Lo scorso ottobre E senza Braccia e gambe Lo hanno individuato I cani Di una donna Che vive A 200 metri L'ipotesi È appunto Quella che Possa essere Il cadavere Dell'83enne Di Bisenti Palmerino Piccirilli Che è appunto Scomparso Lo scorso mese Di ottobre Da allora Non si hanno Più notizie Andiamo Avanti Rancitelli Chiama Pescara Non vogliamo Restare Soli Fiaccolata Nel quartiere Difficile C'è il sindaco Ma non il resto Della città E poi Dice Don Massimiliano De Luca Paghiamo Anni di Disattenzione Appunto Ieri La marcia Silenziosa Andiamo In taglio basso Dopo quanto Accaduto Alcuni giorni Fa Dono di droga Rubato Dietro il delitto La tragedia di Capodanno Potrebbe essere nata Da uno sgarbo Della vittima La vittima Appunto Marco Cervoni L'accusato Guerino Spinelli Andiamo Avanti Sentenza Pilota Della Cassazione Vince Il ricorso Contro la Soget Stoppa I pagamenti Prima Del 2010 La Corte Suprema Ha accolto Il ricorso Di un illegale Pescarese Annullato Una cartella Esattoriale Di 197 euro Risalente Al 2008 I giudici Romani Nulla è dovuto Se la somma Non supera I 1000 euro Andiamo Avanti Lavoro E nuove Opportunità Pescara Parcheggi Cerca Personale Stipendi Da 1800 euro Al mese La società Del comune Che gestisce La sosta Vuole assumere Impiegate Amministrative E funzionari Partono i concorsi Le domande Entro il 12 gennaio E per i dipendenti Precari Arriva Il contratto E poi In taglio Medio Il comune Da il via libera 50 assunzioni Ecco i nomi Dei vincitori Dei concorsi Svolti A fine anno Nell'elenco C'è anche L'ex assessore Laura Di Pietro Un taglio Basso Un nuovo progetto Per Viale Marconi Le parole Dell'assessore Luigi Elbore Mascia I tecnici Stanno verificando Se sia possibile Modificarlo Senza perdere I fondi Proseguiamo Siamo di nuovo All'argomento Befana Che appunto Ieri ha chiuso Le feste Di Natale Ieri appunto Giornata dell'Epifania Al porto turistico La Befana Arriva in gommone Regala Dolci A mille Bambini Folla Alla Manifestazione Della società Nazionale Salvamento Evento Agbe I poliziotti Donano elicotterini Ai piccoli Malati Tante dunque Le iniziative Di ieri Per l'Epifania Siamo ora Alla pagina Di Montesilvano Argomento Crisi Del commercio Corso Umberto Negozi chiusi I proprietari Stiamo morendo Confesercenti Lancia L'allarme Chiede Un incontro Al comune Per rilanciare L'economia cittadina Gli esercenti Lamentano Affitti stellari E pochi parcheggi Chieste manifestazioni Per tutto l'anno E poi ancora Tauci Di Confesercenti Aggiunge Troppo traffico Pesante Sul viale Dello shopping Andiamo avanti Siamo a Città Sant'Angelo Con i primi Sei mesi Da sindaco Le parole Di Matteo Perazzetti Meno tasse Per gli angolani Nel 2020 L'amministrazione In carica Da maggio Rivendica Il boom Della differenziata In cantiere Lavori Per il disesto Idrogeologico E la promozione Del turismo Grazie Alla mia squadra Aggiunge Il neosindaco Perazzetti Soddisfatto Di quanto fatto E degli assessori E consiglieri Che mi sostengono Ho avuto il merito Di sceglierli In base Alle competenze Poi in taglio Medio I costi Del Giova Parti Oggi in commissione E dunque Torniamo a Montesilvano L'assessore Comardi E il dirigente Ventrella Chiamati a fare chiarezza Sui fondi Investiti Proseguiamo E siamo Su Una Nuova pagina Ecco qui A Francavilla Al mare Contrata Villanesi Il cantiere Della frana Bloccato Da due Pali Gli impianti Dell'Enel Impediscono I lavori La società elettrica Chiede al comune I soldi Per spostarli Proseguiamo Siamo in Val Pescara C'è pagati Il sindaco Aiuteremo Le famiglie Rimaste senza lavoro Il rogo Che ha distrutto La isolbit 15 operai Sono disoccupati Resta aperta La pista dolosa Al vaglio I filmati Dei monitor E poi ancora Le parole Del sindaco Di Cepagatti Gino Cantò Sulla qualità Dell'aria Sono sollevati I rilevamenti Dell'Arta Hanno confermato Che non c'è benzene E la diossina Non è stata dispersa Nell'ambiente Vediamo il servizio Realizzato dal TG6 Dopo la grande paura È stato domato Dai vigili del fuoco Del comando provinciale Di Pescara L'incendio Che all'alba di ieri Ha distrutto La isolbit Di Villanova Di Cepagatti Azienda specializzata Nel recupero E nel riciclo Di materiale plastico Dopo i timori Per la qualità dell'aria Nella serata di ieri Sono anche arrivate Le rassicurazioni Dei tecnici Dell'Arta Che hanno monitorato Nelle ultime 24 ore La situazione Non rilevando Alcuna criticità La notte scorsa Intorno alle 4 Sono parzialmente Ripartite In alcuni punti Le fiamme Nella fabbrica Poi domate Dal pronto intervento Dei pompieri Rimangono piccoli fumaioli Ma tutta la zona Resta sotto stretta sorveglianza Da parte dei vigili del fuoco Per poter attendere Che si raffreddi l'aria E poter effettuare Una prima ricognizione Per capire le cause Del ruogo Delle indagini Si occupano I carabinieri Coordinati Dalla tenente Giovanni Rolando Che nelle prossime ore Ascolteranno I proprietari Dell'azienda Il sindaco Di Cepagatti Gino Cantò Auspica un ritorno Alla normalità Nel giro Di qualche giorno È stato Un dramma Un dramma Che non ci aspettavamo Un ingendio Così enorme Che ha distrutto L'intera fabbrica E ha interessato Anche La cittadina Di Villanova Grazie a Dio I vigili del fuoco Sono intervenuti Prontamente Un grazie a loro Che hanno saputo Fare il loro lavoro Come sempre E hanno spento L'ingendio Ieri sera Abbiamo ricevuto Una mail Da parte dell'Arta Che in pratica Non c'è benzene Quindi la diossina Non è dispersa Nell'aria E quindi Questo ecco È una grande cosa Perché Avere anche questi guai Non era assolutamente Era un problematica Per la cittadina Di Cepagatti La titolare Era preoccupata Perché sono persone Per bene Che hanno speso Una vita Per fare quella fabbrica E era disperata Perché adesso Vanno in fumo Tutti i sacrifici Di una vita Era preoccupata Anche per i suoi Lavoratori Che purtroppo Adesso rimangono Senza lavoro E quindi La preoccupazione È anche per loro I carabinieri Stanno accertando Le cause E si parla Che possa essere Doloso Però questo Diciamo Non sta a me Giudicare una cosa Del genere Saranno appunto La magistratura E i carabinieri Ad accertare Quando di dovere Proseguiamo sul centro Le pagine di Chieti La ASL assume Odissea Fino a Pesaro Una notte Sugli autobus In A14 Per arrivare In tempo Al concorso Al test Di domani Parteciperanno Quasi 8000 infermieri Provenienti da tutta Italia Disponibili 30 posti Concorrenti Pronti a viaggiare In pullman Per 12 ore di fila Il DG Rischio code Partite in anticipo E poi ancora A 61 anni A caccia Del posto fisso Ce la farà Un candidato Su 261 Ma anche Chi entra In gradatoria A speranze Andiamo avanti Ecco prima Vediamo Questa tabella Ripirogativa Domani Il concorso Per infermieri Gli ammessi Al test 7823 I dipendenti Della ASL Lanciano Vasto Chieti Che faranno I controlli 140 40 Andiamo avanti Siamo sempre Sulla cronaca Della provincia Di Chieti Morto alla Sevel Fermo il primo turno Oggi il rientro Dopo le vacanze Ma l'area dell'incidente Sotto sequestro Alle 12 Assemblea Sindacale Sulla Sicurezza In taglio Basso Sempre la cronaca Il papà di Emiliana Voglio giustizia San Salvo Slitta il processo Per i due giovani Uccisi a Milano Da un'auto Andiamo ora Sulle pagine Di Teramo Gli eventi In città Il momento del bilancio Natale Teramano Chiusura Con oltre 100.000 Presenze La seconda edizione Ha migliorato La prima Ma ancora non basta Per rivitalizzare Il cuore di Teramo Il sindaco Vanno riprogettati Viabilità E parcheggi Filipponi L'assessore Aggiunge Ora un calendario Per l'estate Ora in provincia Di Teramo Via I mezzi Pesanti Da Silvi Devono passare Su A24 E A25 I consiglieri Di centro-sinistra Scrivono al Ministero Delle Infrastrutture Chiedendo un provvedimento Il sindaco Scordella Aggiunge Aspettiamo Cosa decide La magistratura Sul dissequestro Del viadotto Cerrano E poi ancora A Pineto Via Libera L'ultimo tratto Della pista ciclabile Ok al progetto esecutivo Il costo è di 450 mila euro Per poco meno Di due chilometri E ora le pagine Dell'Aquila La cronaca Che arriva Dalla provincia Con la tragedia Che si è consumata Sulla Tiburtina Giorni fa Che ha coinvolto La sfortunata Sara Sforza Di Aielli Morte di Sara Spunta un test Che ha visto Strani movimenti Il legale Del fidanzato Della 23enne Vittima dell'incidente Provocato dal marocchino Ubriaco Ha raccolto Il racconto Di un automobilista Appello Del sindaco Di Natale Mettere in sicurezza La Tiburtina Per l'avvocato Cotturone C'è il pericolo Di fuga E per questo Viene chiesto L'arresto Del 25enne E poi in basso Operaio morto Ipotesi del malore Sante Maria Oggi Ricognizione cadaverica E camera ardente Per gli amici Avis E chiudiamo La prima parte Con quest'ultima pagina L'Aquila Fiera Dell'Epifania Il bilancio Le parole Del sindaco Biondi In 15.000 Alle bancarelle Mille vetture In sosta Gratis Al megaparcheggio Cioni Di Confcommercio Ottimo Traino Per l'avvio Dei saldi Noi ci fermiamo qui Con la prima parte Di mattino 6 Spazio alle previsioni Del tempo La pubblicità E poi rientriamo Con il messaggero La città E altri servizi Di nuovo Buongiorno Seconda parte Di mattino 6 Che apriamo Con il messaggero Abruzzo Ecco qui Il bilancio Tracciato dal Governatore Marco Marsiglio Messe le basi Per una riscossa Vera Dopo 4 anni Di nulla Da parlamentare Situazione ovattata Fare il presidente Di regione Cambia la vita I collegamenti Sono l'emergenza primaria Cause pedaggi Autostrade Facciano Di più E poi ancora Non sono solo Al comando È una favoletta Preoccupato Per le tensioni All'Aquila E poi ancora In taglio Basso A 14 Ecco come Riscuotere i rimborsi Gli autotrasportatori Non bastano Il presidente Della provincia Di Teramo Va ad Avellino Per discutere Con i magistrati Proseguiamo Siamo sulle pagine Di Pescara Ferro di Cavallo Rebus Demolizione L'amministrazione Comunale Tira dritto Con l'intenzione Di abbattere L'edificio Ma bisogna Prima studiare La modalità Il rischio Di spostare In un'altra zona calda Della città Il pericolo Legato a chi In quegli alloggi Conduce Danni Attività criminali E poi L'assessore alla casa Isabella Del Trecco Aggiunge Troveremo la soluzione Per bonificare la zona Riaprire Quello spazio E riportare La legalità Domenica Appenne L'ultimo Saluto A Marco Cervoni Pestato a morte Nel complesso Di via Tavo E poi ancora Riunione con Dinizio e Caritas Pignoli Rafforziamo I punti d'ascolto A Rancitelli In taglio Basso Fiaccolata In silenzio Così il quartiere Reclama Dignità La gente onesta Sfila in corteo Senza striscioni Il sindaco Masci Amministratori Con il gonfalone Di credico E Don Max Ai politici Basta promesse In tanti Seguono la processione Da dietro Le finestre Andiamo avanti Parliamo Della Befana Befana dal mare E dal cielo Con un messaggio Di pace Al porto turistico Grande entusiasmo Per lo sbarco Voglio che siate felici A piazza salotto L'emozione Calorosa Temo per il nostro Temo per il nostro territorio WWF Ambientalisti Sollecitano Controlli costanti Sulle imprese Attive nel settore Dei rifiuti Urbani E poi ancora Un taglio Medio Un cadavere Decomposto Trovato Sul greto Del fino I carabinieri Di Colle Corvino Ritengono Si tratti Dell'anziano Palmerino Piccirilli Scomparso Da Bisenti E poi Due anni Senza Daniele Gli amici Ricordano Becci Appunto A due anni Dalla sua Scomparsa Il 6 gennaio Del 2018 L'ex presidente Della Camera Di Commercio Di Pescara Andiamo avanti Con le pagine Dell'Aquila Progetto Case A Capodanno Le bollette Di cinque anni fa Proteste Dei residenti E anche Di chi È rientrato Nella propria abitazione Si tratta Di pagamenti Relativi all'Atari Su cui incombeva Il rischio Prescrizione La gestione Del compendio Continua a far discutere Lamentele Per i riscaldamenti E poi ancora La fiera La fiera Dell'Epifania Tira sempre Ora la sfida È il centro Terremoto A Campotosto Scossa Di magnitudo 3 Nel paese Che non conosce Ricostruzione Proseguiamo Niente Neve La stagione Ingrana A fatica Roccarasa Fa il solito boom Regge anche Campo Felice Che nel periodo natalizio Ha fatto registrare Buone presenze La situazione Peggiore È quella di Campo Imperatore Tra strutture Fatiscenti E le tante proteste Degli appassionati Si spera Si spera che il meteo Possa dare Una mano Nelle prossime Settimane Poi ancora Santo Stefano E Calascio Pienone Già da un mese La Rocca È ormai diventata Un caso positivo A livello nazionale Siamo in Marsica Sara Oggi Le decisioni Della procura Non si esclude Un provvedimento Dei giudici Mentre la famiglia Invoca tranquillità No agli sciacallaggi Il sindaco Di Aielli Di Natale Torna sulla pericolosità Di quel tratto Della Tiburtina Sollecita Provvedimenti Vediamo il servizio Del Tg6 Rendete sicura La Tiburtina E questo L'appello Del sindaco Di Aielli Enzo Di Natale Che si riferisce Al tratto di strada In cui pochi giorni fa Perso la vita Sarasforza Di soli 23 anni Mi rivolgo Ai politici Regionali E nazionali I fondi ci sono Si legge in una nota È stata appena approvata Una legge finanziaria In regione Basta ricollocarli Usando il buonsenso E la coscienza La Tiburtina È un'arteria Trafficatissima Percorsa quotidianamente Da migliaia di persone Il primo cittadino Denuncia che Tra Cerchio Ed Avezzano L'illuminazione È insufficiente Così come la capienza Delle carreggiate Vi sono incroci pericolosi E dovrebbero essere poste Barriere fisiche Di sicurezza Intanto ieri Si sono svolti I funerali di Sara Partecipati Da tutta la comunità Il parroco Ha espresso un giudizio netto Sara è stata vittima Della sceleratezza umana Ha detto durante l'omelia Riducendo tutta la questione Al problema Degli stupefacenti In quanto il 25enne Che tentando un sorpasso Ha causato l'incidente È risultato positivo Alla cocaina L'uomo è ricoverato In ospedale E dovrà rispondere Di omicidio stradale Ancora in ospedale Si trova anche Il fidanzato di Sara Che con l'aerea in macchina E si è salvato per miracolo È stato operato a un braccio Ha seguito delle fratture riportate E ora è ancora ricoverato Sotto shock Al nosocomio di Avezzano Ad Aielli Il paese dove Sara è cresciuta In segno di lutto Sono stati annullati Tutti i festeggiamenti Previsti per l'epifania Secondo gli ultimi dati Istat disponibili Nel 2018 In Abruzzo Si sono verificati 3.145 incidenti stradali Che hanno causato La morte di 76 persone Rispetto al 2017 I dati hanno evidenziato Un aumento degli incidenti E delle vittime della strada In netta contrapposizione Alla tendenza nazionale E proseguiamo con le pagine di Chieti Sul messaggero Ambulanti Una rivoluzione tra riordino E nuovi mercati Piazza Garibaldi Restano una quarantina Presto le bancarelle Al villaggio Mediterraneo L'assessore di Biase Si ha rigore e buon senso Verso scelte importanti Percorso Marucino Inizia l'attuazione Del piano commercio Per rilanciare il settore E poi di spalla Ecco Il Lunario racconta Le tradizioni Del bel paese L'almanacco della felicità È dedicato alla qualità Della vita E delle relazioni Proseguiamo Siamo a Lanciano Un laboratorio Officina All'ex Torrieri Prevista la demolizione Del vecchio opificio Per creare L'anello di congiunzione Tra la città storica E Moderna Nel futuro Di Palazzolotti Tre appartamenti E una piastra di servizi Attraverso un progetto Di senior E social housing E poi ancora Il sindaco Pupillo Aggiunge Stanziati 60 mila euro Per operare Su queste aree Sulla costa Vastese Il punteruolo rosso Continua a divorare Nelle palme Nelle riviere Proseguiamo Siamo sulle pagine Di Teramo Gabriele La povertà totale Elemosine Fame E freddo Separato Parcheggiatore abusivo Vive senza riscaldamento E luce Ma io così Mi trovo bene Molto bene Non voglio il reddito Di cittadinanza Il caso del 55enne Che abita in un alloggio Senza alcuna utenza Farmi compagnia Ci sono i gatti E poi di spalla Sempre a Teramo La fiera In tono minore Il gelo Frena Lo shopping Andiamo avanti Siamo sulla costa Teramana Tre denunce Per il ride Dell'Epifania Le associazioni Diversamente Colibri Oggi saranno Dai carabinieri Danni e furti Alle casette E al paleventi Brutta sorpresa Anche per Esterina Che ha curato la cucina E che si è ritrovata Con i frigoriferi Svuotati Di carne E salumi Intanto L'assessore di Carlo Guercioni Vuole ancora La pista E poi ancora In taglio Medio Progetto Territorio Pulito Inflitte Oltre 150 Sanzioni Si tratta Di multe Nei confronti Di chi ha Gettato rifiuti Speciali Non a norma Tutto questo Ha tortoreto E poi sempre In Val Vibrata Botte Alla madre Per i soldi Arrestato Secondo codice rosso Per atti persecutori In azione I carabinieri Di Martinsicuro Lasciamo il messaggero Abruzzo Andiamo sulle pagine Della città Il quotidiano Della provincia Di Teramo E partiamo Da pagina Quattro Violenza Dopo La peristrette Il secondo Violentatore Arrestato A Firenze In manette Il 22enne Pakistano Che con un connazionale A giugno Ha tentato Di stuprare Una studentessa Il complice Del commerciante Ambulante Era finito In cella Meno di un mese fa Dopo sei mesi Di indagini Da parte Dei carabinieri Siamo ora A pagina 5 I ZS Caporale Verso un CDA Di Avvocati L'Abruzzo Ha scelto Di Giacinto E il Molise Cantone Dal ministero Attesa La nomina Di Pasquale Pagina 6 Il Natale Teramano Rianima I saldi In centro Trend positivo Dopo anni di flop Il pacchetto Di eventi Al secondo anno Di prova Sembra funzionare Per il commercio Poi ancora Pagina 7 Il sindaco Di Teramo D'Alberto Visita gli ospiti Della De Benedictis Il primo cittadino Tra gli anziani Della casa di riposo Punta Sulla necessità Di rivedere La legge Regionale Sulle ASP Avanti Con pagina 8 E la festa Dell'Epifania Qui vediamo Alcuni degli scatti Sulla città Pienoni In piazza Per l'arrivo Della Befana I vigili del fuoco Animano le piazze A Teramo E Roseto Con migliaia Di bimbi In attesa Delle caramelle Poi ancora Le befane Di Atri Scendono Dalla torre Campanaria Il sindaco E i politici Ducali Animano la festa Dell'Epifania In centro Ad Atri A pagina 11 Siamo a Isola Del Gran Sasso Al via Il trasferimento Dei piccoli alunni Dopo il taglio Del nastro Di novembre Sarà operativa Da giovedì La nuova scuola Elementare Donata Dalla Croce Rossa La struttura L'edificio è stato progettato Rispettando le normative antisismiche Ed è dotata di È dotato L'edificio di Laboratori multimediali Cucina E Mensa Avanti Su pagina 14 Scontro Pepe D'Annuntis Sul ripascimento Botta e risposta Fra i due politici Vibratiani Sul finanziamento Concesso ad Alba Adriatica Per ripristinare La costa E poi ancora La cronaca Che arriva dalla Val Vibrata Picchia L'anziana madre Per avere i soldi A Martinsicuro Disoccupato Finisce in Carcere Per estorsione E atti persecutori Ai danni Della donna Ultra Settantenne E poi ancora In taglio medio Sempre in Val Vibrata Ma a Nareto La piattaforma Per i rifiuti liquidi Giovedì Torna Al comitato Via Il WWF è tornato A ribadire La contrarietà Al progetto La situazione Autorizzativa Appare estremamente Problematica Proseguiamo Siamo appunto A Silvi Percorso alternativo Per togliere i tir Dalla statale La proposta del consigliere Vito Partipilo Prevede l'utilizzo Di A24 E A25 Per bypassare Il territorio Di Silvi Poi il sindaco Scordella Ha fatto sapere Che le decisioni Della procura Sui dissequestri Potrebbero Arrivare Entro Mercoledì Omaggio All'economista Abruzzese Un premio In memoria Di Federico Caffè L'idea A prodo In consiglio regionale Blasioli Il pensiero Il pensiero del professore È estremamente Attuale Ed ora Apriamo Con la pagina Dello sport Sulla città In Sicilia Torna Il trequartista Aspettando Il mercato Chiaramente si parla Di Teramo Aspettando il mercato Le quotazioni Le quotazioni di Birrigia E K Sono in rialzo Cianci Piace Scudetto Di Lukaku E Ronaldo Cristiano Travolgi Il Cagliari Firma la sua Prima tripletta In Serie A E applaude La Juve Adesso giochiamo bene Nella risposta Di Romelu E micidiale Doppietta Inter che torna a vincere A Napoli Dopo 23 anni Io e Lautaro Che coppia Domenica Si chiude Il girone D'andata E poi ancora Ibra Non basta E il solito Milan 0-0 Con la Samp Zlatan Non incide Atalanta Altra manita De Rossi Chiude E torna A Roma La gazzetta Dello sport Gioca Con L'espressione Re maghi Sono i re maghi Epifania Scudetto Inter-Juve Senza respiro Lukaku Firma l'impresa Napoli E resta all'altezza Di un super CR7 Poi ancora L'addio Di De Rossi Ora voglio allenare Lazio Il Ciro D'Italia Insegue Anche i miti E poi ancora La rabbia Di Ibra Zlatan Non basta Milan in area Serve la ferocia Del killer Dopo lo 0-0 Con la Samp Doria Il ciclone Atalanta Una macchina da gol Altri 5 Da 61 anni Nessuno segnava così 5-0 Al Parma Ed è meno uno Dalla Champions E quindi Tutto sport Che parla di CR Show Juve-Inter La sfida continua Letali Lukaku Lautaro Coppia d'oro Steso il Napoli E poi sotto La testata Dea Dammi Il 5 Atalanta Hanno nuovo Stesso Spettacolo E in taglio Basso Dopo la doppietta Dell'Olimpico Belotti Degno Degno Degli Invincibili Parla Il figlio Di Ossola Raggiunto Dal Gallo A 85 Reti E ora Torniamo Sui quotidiani Locali Andiamo A vedere Il centro Ecco qui Oggi Il Pescara Torna A lavorare In vista Del ripristino Del campionato Il prossimo 19 di Gennaio Squadra In ritiro All'Ecotel Fino a Domenica prossima Pescara L'ora Delle scelte Memushai Zauri Al Bivio Oggi è previsto Il faccia a faccia Per sancire la pace Tra la mezzala E l'allenatore Vido In Polma Si guarda anche In casa cremonese In prova Il baby Canadese Rea E poi ancora Al Bestina La ripresa Degli allenamenti Doppie sedute Di lavoro Fino a Domenica Come detto Squadra in ritiro All'Ecotel Di città Sant'Angelo E poi le parole Del tecnico Colantuono Del fino da playoff Galano Super L'ex tecnico Di Atalanta Udinese Il mercato Guaia a rivoluzionare Le squadre Con una certa Identità Per la serie C Teramo Fa il casting Per il terzino Sinistro Spunta anche Pedrelli Dopo contessa Della Ferral Pisalo Prende piede L'ipotesi Del laterale Della Vispesa Lo strada Sbarrata Per Costantino E per l'attacco Si continua a lavorare Per chiudere con Barisic Curiale Del Catania Domenica La sfida Con la Sicula Leonzio Senza Mungo E Piacentini Squalificati Successo Successo Che matura 29esimo Dagli sviluppi Stante corso Nell'OB Nell'OB Che intendeva colpire Di nuovo Bruno Amelia Richiama Il brasiliano Per Palumbo Di Meo Toglie Di Cillo Camarai Sarrizzo Per Bratelli Bacigalubo Ed Energe Ma è la squadra Di Amelia Che quando affonda Fa male Dialogo Tra i due Esposito Al 66esimo Vittorio Per Francesco Il cui tiro Non inquadra La porta Entra anche Franchi Nel Chieti Per Sarrizzo Ma è Sivilla Da sinistra A mettere in ambasce La difesa vastese Traverso le teso Nessuno arriva A centroarea Con Montanaro Che in scivolata Mette in corner Rischiando quasi L'autorete E questo però Il momento Del massimo sforzo Della squadra Di Pino Di Meo Franchi Al 72esimo Si accentra Ma il suo destro È strozzato Nulla a che vedere A livello Di pericolosità Con la biglia Che Bacigalupo Si ritrova Sette minuti dopo Conclusione Dall'interno Dell'area di rigore A botta Praticamente sicura La sfera colpita Come peggio Non si potrebbe Pallone alto Di Meo E il pubblico Nero verde Si disperano E lo 0 a 2 A tre dal novantesimo Sembra essere L'ennesima conferma Del vecchio Adagio calcistico I spazi per la vastese Diventano amplissimi E Brugaletta Non regge Nel corpo a corpo Con il più fresco palumbo L'ex Francavilla Evita Bruno E chiude il match La vastese sale così A quota 29 punti Scavalca il Pineto Fermato dal Fiugge Domenica Avrà un altro derby Stavolta all'Aragona Col Giulianova Per il Chieti Momento decisamente no 17 lunghezze in classifica E un girone di ritorno Nel quale servirà Una marcia Completamente diversa Posticipo anche in eccellenza Ieri Lanciano Tris per restare Sulla scia del Castelnuovo In 20 minuti I rossoneri Liquidano la pratica Ponte Romano E mantengono il distacco Di 8 punti Dalla capolista Il patron Panetta Approccio sbagliato Rapidamente Vediamo le pagine Dello sport Del messaggero Abruzzo Pescara Tre colpi Salto di qualità Il patron Sebastiani Annuncia il piano Per il mercato La priorità per i bomber Vido e Palombi Sono difficili Ciofani Ceravola E Trotta Ci stiamo provando E poi ancora Vorremmo chiudere queste operazioni Nel più breve tempo possibile Massima fiducia In Zauri Per il Futsal Storico triplete Del città di Chieti Re di Coppe Poi per la serie C Teramo Arrigoni Finisce in panchina Il capitano Inizia male Il nuovo anno Al suo posto Viero Mercato Manca la fumata Bianca per Curiale E Barisic E poi per la serie D Vastese Corsara A Chieti Con Pizzutelli E Palumbo Nel derby Che valeva Come posticipo Gli aragonesi I protagonisti I playoff sono a un punto Si complica la classifica Dei neroverdi Dai tifosi di casa Solo qualche fischio E indifferenza Bardini Si mangia La rete Del possibile Pari Probabilmente Baggi Galupo Visto che Bardini È della Vastese Di Meo Grave nostro errore Amelia Tecnico della Vastese Come l'avevo studiata E poi per il campionato di eccellenza Lanciano Continua l'inseguimento 3-1 Al Ponte Romano Resta invariato Il distacco Dalla prima Castelnuovo Poi ancora Siamo al volley di A2 Una sieco contata Ma è sempre terza Ortona Alla fine Paga La panchina corta Non sempre le imprese riescono Ma l'obiettivo Iniziale Resta sempre Quello della salvezza Il rientro di Marx Per ora Non ha convinto Da valutare le sue condizioni E Carelli Non basta Poi per il basket Di A2 Mal di trasferta Per il rosetto Di D'Arcangeli Gli stessi punti Dell'anno scorso E ci sarà Da soffrire Oggi l'incontro Con l'amministrazione Dopo le dimissioni Di Cimorosi e Cianchetti Dalla società Chiudiamo in taglio basso Tornando al calcio Di Serie D Notaresco in Stato di Grazia E in arrivo Il portiere Scotti Dal Rimini E poi le parole Di un amareggiato Presidente del Pineto Brocco Dopo la sconfitta Di Piuggi Sono desolato Mi aspetto Una vera reazione Noi invece Chiudiamo qui Questa edizione Odierna Di Mattino 6 Che tornerà Ovviamente domani Alle ore 8 Vi ricordo Gli appuntamenti Informativi Con la nostra emittente Le tre edizioni Del TG6 Alle 14 19 E alle ore 23 Grazie a Loris Bennato In regia E grazie a voi Per la cortese attenzione Buona giornata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.